Si sono regolarmente insediate le 53 sezioni elettorali in cui si voterà per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Non si segnalano problemi di alcun tipo, ma al servizio elettorale del comune ci si è dovuti preoccupare di sostituire ben 23 presidenti dei 56 nominati dalla Corte d'Appello. Una raffica di rinunce senza precedenti, probabile effetto della complessità degli scrutini e della pressione che inevitabilmente si avverte quando si vota per le comunali. A Trani per l'occasione sono chiamati alle urne 47.179 cittadini, 6 sono i candidati sindaco, 24 le liste, 701 gli aspiranti consiglieri comunali per una assemblea che sarà formata da soli 32 membri contro i 40 di quell'oscente.